Ho chiesto al governatore, al presidente Enrico Rossi di venire in aula a riferire, a dire qualcosa perché appare evidente, noi lo denunciamo da giorni, ma lui fa finta di niente, che tra i suoi finanziatori ufficiali esiste la CPL Concordia, la cooperativa che in questo momento è in mezzo allo scandalo con arresti e sequestri di beni per rapporti con la Camorra. Quindi il governatore Rossi è stato finanziato dalla cooperativa degli amici della Camorra e non dice una parola. Siccome noi crediamo alla buona fede, magari è stato finanziato a sua insaputa, potrebbe fare come hanno fatto altri, che siccome erano state finanziate alcune strutture periferiche, nel suo caso è proprio la sua campagna elettorale, però per esempio c'è stato il caso in cui Giorgia Meloni ha trovato una struttura periferica di un suo comitato che ha ricevuto un finanziamento a questa cooperativa, quando l'ha saputa ha detto nessun segnale di disponibilità, diamo in beneficenza questi soldi, non abbiamo niente a che vedere con questi soggetti. Enrico Rossi sta zitto, ha preso i soldi alla cooperativa con i rapporti, che ha rapporti con la Camorra e non dice una parola. A questo punto noi vogliamo che dica qualcosa, abbiamo chiesto di venire a riferire in aula, per ora non è venuto, però è molto grave perché si parla di soldi sporchi, di vicende molto dubbie, su cui in questo momento ci sono arresti, sequestri di beni, se ne parla su tutte le pagine nazionali dei giornali e lui sta zitto.